siamo prossimi al tupo ovvero il vertice del monte chiunzi il il bello delle nostre montagne che anche in estate sono riparate da sola questo agevola molto la passeggiata grazie a tutti ci sarà un po' di vento il tuffo tramonti forse quello è il cerreto qui sotto c'è l'agronocidus arnese pagani è di fronte a noi lo splendore ecco il tuffo la torre di chiunzi cesarano mare monte finestra lontananza monte sant'angelo lontananza 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 lontananza